Ciao, mi chiamo El Tracciari, ho 14 anni e abito nella provincia di Bologna, Sassomarconi. I miei hobby sono quello di suonare sia la chitarra classica che l'elettrica e come sport pratico nuoto. Il mio suono più grande sarebbe quello di diventare un'attrice. Le esperienze che ho fatto nel mondo del cinema sono state quella di fare la comparsa nel film Fratellorincori Dinosauri. Ho fatto una pubblicità per la Bestway e ho fatto anche due cortometraggi da protagonista. Uno si chiama Amore Liquido di Matilde Celli e l'altro Popcorn Girl. E niente, ciao!